Allora, guarda, ho una scatolina con due palline all'interno, mi vedi? Sì, ok. Questa è una sfida, un rompicapo, tu dovrai posizionare queste due palline, una qui a sinistra e l'altra qui a destra. Ok, avrai dieci secondi per posizionare due palline. Pronti, partenza, via! Vado! Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due. Uno, zero. Vieni, ma non ce l'hai fatta. Guarda, io adesso prendo questa custodia di DVD perché non ti voglio far vedere il modus operandi. Allora, attenzione perché basta un gesto magico così e guarda incredibilmente le palline si sono posizionate una a destra e una a sinistra.